Cos'è per lei fare politica? Fare politica per me è ascoltare le ragioni degli altri. Non voglio essere costretta a scegliere tra il sentimento e la politica. Ma lui è Togliatti, è il segretario del Partito Comunista. Le donne sanno che noi abbiamo lavorato per loro, per liberarle da una forma di schiavitù. Che ne diresti di una donna presidente della Camera? Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna. A ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Storia di Nipe. Questa sera alle 21.25. Rai 1.